Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2. Attenzione, treno in transito al binario 2. Attenzione, treno in transito al binario. Sito al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 21-1-6-7 proveniente da San Carlo è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno in arrivo al binario 1 termina la corsa. Non è bene, non è bene. Il treno è este altro che. Nel treno per 32 anni. Grazie. Grazie.